E' troppo freddo! Sì, non c'è nessun posto come casa. Bene, ci siamo quasi. Guardate, il frammento! Fa freddo! Odio il freddo! Siamo già sta attacca! È un frammento del vento, poveri sciocchi! Muro oscuro! Fa tanto freddo! Vorrei poter combattere contro un gormito del fuoco! Il frammento è lassù. Cercate di mettere i piedi sulle mie orme. Nel Regno dei Ghiacci le ombre creano zone scivolose. La neve nasconde laghi ghiacciati. Qualsiasi cosa potrebbe causare una valanga. Il Regno dei Ghiacci è un posto serio. Solo per persone serie. Trovate un riparo! Trovate un riparo, Igor! Sei sempre stato divertente. Filchir? Oh, no! Lui sarebbe una di quelle serie persone dei ghiacci di cui parlavi. Non hai il senso dell'umorismo, cugino? Cugino! Non possiamo scegliere la nostra famiglia. Non è stato affatto divertente, Filchir. Queste sono cose pericolose, da incosciente e non divertenti. Basterebbe un solo colpo a Typhon per rispedire indietro Greg a Darkor. Deve esserci una soluzione. Andiamo, cugino. Non permettere a quella faccia di Lumaca di vincere. Non nel nostro Regno, dico sul serio. Sul serio? O magari non così tanto serio questa volta? Typhon ha bisogno di un solo attacco. Drac ha ragione. Io sono il più potente Darkan che sia mai esistito. E adesso mi distruggerò. Vai! Una malanga! Una malanga di neve? Dove? Come? Typhon, vai! Tempesta curiosa! No! Il mio vento! Ridammelo! Oh! 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 Vuoi un po' di vento? D'accordo! No, no, no! Ci vediamo, faccia da Lumaca! Oh! Oh! Dormiti, gormiti, raggiungibili, chi fermerà? Leggi un mistero, leggi un mistero. Dormiti! Dormiti! Dormiti, raggiungibili, chi fermerà? Dormiti, raggiungibili, chi fermerà? Grazie.